scrittore paolo cammilli scrittore paolo cammilli porto seguro editore lo scrittore paolo cammilli fa parte del gruppo dirigenziale della casa editrice porto seguro editore la casa editrice porto seguro editore appare frequentemente su facebook ed io ed io intervengo nei commenti nei commenti intervengo delicatamente mostrando il link di questa mia opera mostrando il link di questa mia opera che appena è stata edita da leonida edizione e va a ruba va letteralmente a ruba e si vede che il mio intervento sulla presenza su facebook di porto seguro editore il mio intervento con il link di questa mia opera non è piaciuta allo scrittore paolo cammilli il quale mi ha scritto per cortesia serafino massoni e smettila di fare spam allora io ho risposto che quando si linka un'opera un libro non si fa spam si fa cultura si fa cultura e poi ho detto guarda paolo cammilli che io scrivo opere che vengono vendute in decine di migliaia di copie per esempio una mia opera la lama e la rosa hashet hashet edizioni hashet internazionale è stata venduta in 30 mila copie che poi sono diventate 50 mila copie ed io ho ricevuto i diritti d'autore eccoli qua eccoli qua eccoli qua io posso documentare tutto quello che dico è lo posso documentare lo posso documentare pagamento diritti da autore ecco qua ecco qua euro 15 mila e rotti euro 15 mila e rotti a che lo scrittore paolo cammilli mi ha detto ma guarda che io sono uno scrittore che vende 200 mila copie per ogni libro 200 mila copie per ogni libro allora io ho detto senti paolo cammilli se tu vuoi che io ti creda documentami che tu vendi circa 200 mila copie ogni libro come io ti ho documentato perché io a paolo cammilli gli ho mandato la documentazione che questa mia opera è stata venduta in prima battuta in 30 mila copie da hashet edizione 30 mila copie e poi sono diventati 50 mila copie per cui io ho ricevuto i diritti d'autore e mostro pubblicamente eh questo documento pubblicamente pubblica pubblicamente 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 a chi lo scrittore paolo cammilli siete fa parte del gruppo dirigente di porto sicuro non mi ha scritto più nulla allora io sono sicuro che paolo cammilli lo scrittore paolo cammilli mi documenterà che lui per ogni libro che vende vende circa 200 mila copie come mi ha scritto e me l'ha scritto sta scritto è scritta manent verba vola me lo documenterà se non me lo documenta io ci resto male io ci resto male capito perché io sono questo qua io sono l'autore di questa opera storico mitologica che attualmente va a ruba eh attualmente va a ruba va bene caro scrittore paolo cammilli io te voglio bene però tu mi devi documentare quello che mi hai scritto e cioè che le tue opere vendono circa 200 mila copie va bene paolo cammilli grazie a te paolo cammilli e a porto sicuro editore tanti cari saluti da serafino massoni che è anche questo qua è anche questo qua ok 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 ok